La prossima notizia è dalla televisione Vion, dice Meat ads to be banned from public places, Netherlands to go meat free. Allora questa televisione indiana, ottimo canale dicevo, dice che, vedi queste cose non è che le vedi molto nelle notizie occidentali, devi andare in India per trovare qualche piccola informazione, infatti li seguo molto nelle notizie indiane. E dice così, che la pubblicità per le carni in Olanda saranno proibite. E in Olanda diversi pensano di eliminare la carne completamente dalla nazione olandese. Non mangeranno più la carne? Così dice, Netherlands to go meat free, punto di domanda. Ma perché? Cos'è questa nuova idea? Punto di domanda, dice, la carne è proibita in tutta Olanda? Ma questa è una storia vecchia, abbiamo parlato già negli anni. Il nuovo ordine mondiale vuole depopolare il mondo, perché considerano la stragrande maggioranza delle masse, delle nazioni, cioè quelli che non hanno soldi insomma, come, diciamo, masse da essere depopolate. E in ogni caso non dovrebbero mangiare carne, perché la carne deve essere un lusso per i ricchi. Quindi il diavolo tramite i suoi pupazzi, vedi in Olanda i pupazzi ce ne sono diversi, sta dicendo al mondo che non devono possedere niente, ed essere schiavi, felici, altrimenti aumenteranno le siringate, il lockdown, avanti con il loro piano di depopolazione. Le siringate bisogna vederle nell'ambito della depopolazione mondiale. Infatti adesso ci sono dei dottori che parlano in un modo clandestino, che non si può mica dire sulle medie ufficiali, ti censurano, come ai tempi del nazismo, ti censurano. E questi dottori che parlano a livello clandestino, sui canali televisivi che pochi conoscono, che noi fratelli ci mandano, che anche noi troviamo qua e là, cioè questi dottori dicono, e anche ufficiali che fanno le statistiche, dicono che la popolazione mondiale, nel mondo le malattie sono aumentate al 100% alcune, 1000% o altre, 4000% altre malattie. Cioè il piano della depopolazione è già in atto. Hanno convinto il mondo a ricevere le siringate, che nessuno sa cosa diavolo c'è dentro, che tipo di diavoli ci sono dentro, non lo sa nessuno, che è segreto commerciale, come andare a chiedere la Coca-Cola, cosa si butti dentro questa Coca-Cola? E non si può sapere, nessuno può sapere, segreto industriale. Ma la Coca-Cola la devo mettere con la siringa però. se non mi fido non l'avevo. Le siringate si è obbligato, se no perdi il lavoro. Quindi praticamente la mafia, che una volta era a Palermo, adesso è arrivato a livello mondiale. Questo è un comportamento mafioso. La siringata non è obbligatoria, ma se non la prendi perdi il lavoro. Grazie. Non è obbligatoria. Come andando a mangiare i miei figli. Quindi il diavolo attraverso i suoi pupazzi sta guidando il mondo verso la depopolazione. Il mondo ha tantissimo cibo. Non manca il cibo. Però non vogliono dare la carne ai poveri. Tanto che ora le multinazionali, figlie del diavolo, stanno togliendo i semi ai cereali, alla frutta, sì che le masse dovranno dipendere da loro per seminare. Oggi la frutta e i cereali non si riproducono. Li chiamano i semi suicidi. Ci hanno lavorato per decine di anni per crearli questi assatanati. E tutto quanto con la collaborazione dei loro schiavetti politici, schiavetti politici comprati a 30 denari di bustarelle. Questi politici eletti con le loro promesse appena venivano a potere vanno a baciare i piedi delle multinazionali e grazie per la bustarella. Li vedi in televisione questi politici di quelli e poi li vedi dalla faccia. quindi la presente carestia internazionale è creata artificialmente, è voluta, manovrata dalla zizzania e dalle multinazionali. Quindi la carestia non esiste. È tutto piano dalla depopolazione come Johnson inglese che è dovuto dimettersi perché da una parte obbligava inglesi a portare le mascherine, siringare e lockdown in casa. E lui era là che faceva feste feste salvagge tutte le donne che volevano dentro l'ufficio l'ufficio del governo. Due volte l'ha fatto proprio ma com'è? Cioè allora tutta questa severità severità mascherina attenzione tu porti il cane nel bosco senza mascherina multa nel bosco da solo col cane mi dà la multa. Sì fra poco anche la mascherina il cane metteranno alle galline perché no? Hanno scoperto che respirano e lui era lì che ci dava le feste alla movida le feste brave quindi tutta questa severità che mettono loro non gli interessa niente. ho visto una foto su internet di Draghi che era lì in un asilo di bambini 50 bambini intorno tutte le mascherine lui senza la parla dell'anticristo seduto sul trono cioè in questa notizia vediamo che le masse del mondo che sono già come dire avviata la depopolazione e quindi cos'è la depopolazione? una eutanasia mondiale forzata che appunto le siringate portano all'eutanasia mondiale forzata le siringate portano a quello queste masse che oltre che diventare poveri schiavi contenti adesso devono anche smettere di mangiare carne e questo sarà il prossimo passo del progresso cioè progresso nel senso che c'è progresso solo per i capi progresso mondiale che si parla è solo per i capi le masse le masse possono progredire verso i vermi il menù è stato preparato da illustra scarpi bruxelliani hanno preparato questo menù vediamo se Gloria mi trovi una scrittura it's either Isaiah 14 o Iseco 28 one of those two where it says that the devil is going to be covered with worms ok thank you no ho chiesto una scrittura dolce gloria se me la trova allora me la dai Angelina quella scrittura Isaia 14 e 11 il tuo fasto e il tuono dei tuoi attenzione sta parlando del diavolo questo è il destino del diavolo e della sua zizzania e dei suoi anticristi che adesso ci perseguono il tuo fasto e il suono dei tuoi salteri sono stati fatti scendere nel soggiorno dei morti sotto di te sta un letto di vermi e i vermi sono la tua coperta Isaiah 14 11 sta dicendo qua che il diavolo sai che il diavolo verrà messo in prigione no? Apocalisse 20 verso 1 a 3 diavolo imprigionato dove è imprigionato in un posto non molto allegro nel centro della terra la prigione la prigione l'abisso senza fondo e dice la profezia qui che quando il diavolo viene messo là avrà come materasso come il suo letto sarà fatto di vermi e la sua coperta sarà una coperta di vermi quindi questo è il destino del diavolo per mille anni allora questa gente che adesso vuole fare mangiare i vermi alla gente del mondo vermi raccoglieranno perché la legge di Dio dice mieterete quello che asseminate questi qui hanno asseminato vermi da mangiare per noi io per grazie Dio noi non ne mangeremo mai va bene preferisco andare in cielo morire di fame andare in cielo almeno là si mangia come Dio vuole questa gente che vangira a forzare la popolazione a mangiare vermi saranno loro Dio coprirà loro di vermi e farà sì che il loro letto sia fatto di vermi e non lo dice fratello Giuseppe riferimento? Isaia 14 11 lo dice Dio nei giorni scorsi abbiamo avvertito di queste cose alla radio che il mondo sta guidando il popolazione per mangiare vermi questi capoccioni hanno sdoganato i vermi adesso li hanno legalizzati di più li hanno raccomandati alle masse cosiddette inferiori senza soldi le masse senza soldi tranquilli tutto ciò che vi serve è un immondezzaio andate in una stalla fatevi dare o comprate alcune carriole di sterco e aspettate che crescono i vermi e poi buon appetito questo è quello che i figli del diavolo di oggi stanno programmando per il mondo altro che sarete non possederete niente e sarete felici possederete niente e mangerete vermi guarda ci mancherebbe altro che dicono le multinazionali ci mancherebbe altro che le masse continuino a mangiare carne questo è il lusso per i ricchi ma con quale scusa vogliono togliere la carne? se c'è carestia mangiate vermi dicono carestia viene così non viene una carestia dicono loro non viene perché i multinazionalisti hanno rubato tutto hanno tutti i soldi hanno tutte le ricchezze hanno comprato tutte le terre e non coltivano niente va bene e non hanno soldi mangiate vermi infatti ho letto un articolo che diceva nelle zone di carestia incoraggiano a mangiare i vermi perché prima volta le nazioni ricche regalavano cibo perché anche con punti nella coscienza adesso non regalano niente o quasi niente mangiate vermi andate a un letta maia e mangiate là dopo tutto mica siete multinazionalisti mica siete l'elite mica siete di quelli di Bruxelles che bevano champagne e voi siete inferiori no? e allora loro dicono che la carne deve essere riservata ai capi ai ricchi solamente le masse sono inferiori in quanto tali aspetta ai capi dire loro cos'è permesso mangiare o no questa è la dottrina dell'ordine mondiale fratelli però quelli che riceveranno microchip riceveranno marchio della bestia certamente potranno avere come il tempo del comunismo va bene un mezzo litro d'olio al mese un chilo di carne al mese o mezzo chilo quello che davano e a volte niente andiamo a Luca 4 che c'è una scrittura che voglio leggere lì perché il Vangelo dice che il Vangelo dice che i soldi e il materialismo sono il monopolio del diavolo quindi chi c'è tanti soldi oggi sappiamo perché li hanno e mi fa pena quelle chiese che predicano che dobbiamo arricchirci soldi soldi perché Dio vuole che siamo ricchi sfondati specialmente il pastore queste sono chiese false non ascoltate questi mercenari noi non amiamo i soldi ci piace solo ammassarli ci piace solo ammucchiarli ma non mica perché li amiamo così ci piace a vendere tanti Luca 4 5 all'8 di chi è queste scritture ti dicono di chi è il monopolio dei soldi e delle ricchezze nel mondo Luca 4 5 a 8 il diavolo il diavolo lo condusse in alto gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni perché essa mi è stata data e la do a chi voglio se dunque tu ti prostri ad adorarmi sarà tutta tua Gesù gli rispose sta scritto adora il Signore il tuo Dio e a Lui solo rendi il tuo culto Luca 4 5 a 8 va bene quindi soldi ricchezze cari fratellini delle chiese di prosperità che pastori vi insegna ad adorare i soldi guardate bene da chi vengono i soldi vengono anche le ricchezze da Dio Abramo è un uomo ricchissimo ci sono anche le benedizioni di Dio se tu le consacri al Vangelo al Signore il Signore ti benedice anche finanziariamente ma ammassare solo per il gusto di ammassare non stai facendo niente per il Vangelo no quelle ricchezze non ti vengono date da Dio infatti la zizzania malefica di oggi che vedete vedi la zizzania scolazzare nei mari con i loro yacht yacht così grandi che non riescono neanche a uscire dai loro porti bene cioè si vede che sono benedetti dal diavolo va bene cioè sono ricchezze spropositate fuori misure ricchi marci sono sanguisughe che vanno in giro per il mondo delle zecche visto mai un cane con delle zecche attaccate e queste sono i multinazionali azzeccati al pianeta però del buon seme Matteo 5.3 Dio dice loro Matteo 5.3 Beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli Matteo 5.3 e cosa dice la zizzania Luca ce l'hai Luca 16.24 si ti prego Luca 16.24 ed esclamò padre Abramo abbi pietà di me sta parlando sta parlando alla zizzania quindi quello ai figli di Dio beati i poveri in spirito di loro regno di cieli alla zizzania ripeti padre Abramo abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma ma Abramo disse ma Abramo disse figlio ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro stimilmente ricevette i mali ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato Luca 16 24 e 25 quindi questo qua ha fatto niente di male non ho rubato non ho svaleggiato banche ho solo svaleggiato i poveri con le mie tasse io non ho mai ammazzato niente era solamente perché è stato egoista ha ammazzato per sé non per Dio non per il Vangelo figlio ricordati tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali e adesso lui è consolato e tu sei tormentato quindi queste multinazionali che dicono ma noi non mi ha fatto niente di male rispettiamo la legge facciamo finta di pagare le tasse eccetera sì bene questi qui sono i ricchi di Luca 16 ci siamo? sì voglio leggere un messaggio commento arrivato da parte di Anita dieci minuti fa Anita ha inviato una scrittura molto perfetta per questa situazione appropiata buongiorno fratelli in primo Timoteo dice chiaramente che qualcuno vieterà di mangiare carne primo Timoteo 4 3 essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie primo Timoteo 4 4 3 e io chiedevo ma perché stanno proibendo la carne qual è la scusa? e dice Anita la scusa carangela è il buco nell'ozono che è provocato dagli allevamenti intensivi hai capito non dalle multinazionali che hanno le fabbriche che stanno carbonizzando tutto sono gli animali animali che sono stati in giro da migliaia di anni senza disturbare nessuno e adesso stanno rovinando la clima dice Irina cioè la contaminazione qual è il problema? cioè con la scusa del clima praticamente questi figli del diavolo cercano di fare quello che vogliono e niente è così il diavolo lavora così gloria a Dio infatti in diverse parti del mondo stanno mettendo leggi che proibito crescere l'insalata gli ortaggi vicino a casa tua devi avere il permesso dell'anticristo al governo per crescere l'insalata e lì che c'è quello che vuoi cioè praticamente il diavolo mette sempre più e più e più per espressione perché lui deve arrivare al marchio della bestia che tu devi fare come sotto comunismo la fila col tuo marchio con la tua siringata microchip per raccogliere il tuo mezzo litro d'olio al mese il tuo mezzo chilo di carne ogni tre settimane e così voi che avete passato al comunismo sapete queste cose proprio leggevo un po' di tempo fa in Romania il russian card era la seguente 300 grammi di pane in Romania era ogni quanto per giorno 300 grammi di pane al giorno 500 grammi di pane al giorno mezzo chilo di formaggio al mese dati ogni persona 10 uova al mese quindi attenzione dati mezzo uova al giorno 500 grammi di manzo qualche mucca che è morta di vecchiaia o maiale al mese quindi mezzo chilo di carne al mese quindi due bistecchi abbondanti e un chilo di pollo al mese quindi un chilo e mezzo al mese avevano tutto insieme tutto insieme 100 grammi di burro 100 grammi di burro al mese 1 chilo di zucchero 1 litro di olio ma non di oliva non sapevamo che esiste quello è vero e un chilo di farina e un chilo di farina al mese e il resto cosa mangi? l'aria non so queste queste erano le razioni in Romania posto comunista quindi l'anticristo questo gli andava a pennello perché tutti i soldi li investiva quello che volevano loro armamenti eccetera e quando viene l'anticristo infatti dice che onorerà il dio della forza cioè gli armamenti con i tesori quindi investiranno i soldi in armamenti prendi per esempio Pakistan la Bangladesh si armano comprono armamenti il prezzo di comprare solamente un aereo un caccia moderno puoi sfumare tutta la nazione per un sacco di tempo per cosa? per andare a fare la guerra ma cosa mi interessa a me pagare le tasse a questo governo anticristo o a quell'altro governo anticristo le guerre sono solo per garantire il potere dei dittatori che sono in cima le guerre e quindi li inquadrano i poveracci attraverso i gendarmi della televisione andate a difendere la patria ma la patria sono le multinazionali cosa vuoi difendere la patria? se è solo difendendo i caproni le capre gli anticristo che sono al potere ai quali paghi le tasse che loro non vogliono che paghi le tasse a quegli altri e loro vai a ucciderli per difendere la patria quale patria? per difendere i propri soldi loro i capoccione avanti Angela ascoltiamo Marcello Marocchi il ricco Neccio con questo sole che batte sui prati dopo la pioggia che li ha dissetati come cresce la mia campagna il grano d'oro e la mia vigna quante spighe quanti chicchi metterò tutto nei sacchi li conserverò con cura così non avrò paura la vecchiaia affronterò e tranquillo dormirò se le stagioni sono sempre le stesse io non saprò dove mettere il grano farò fare un magazzino nuove botti per il pino sono più ricco diventato me lo sono meritato non c'è spazio in casa mia starò stretto non importa dormi e sogni anima mia questa è tutta roba tua ma il tempo passa e se ne va e prima o poi ti chiederà il conto della libertà anche quest'anno la pioggia e il sole hanno bagnato e scaldato la terra non c'è stata la tempesta solo dolci nevicate che proteggono il lavoro dagli uccelli e da gelate farò grandi magazzini quelli vecchi abbatterò li proteggerò dei ladri e tranquillo dormirò anima mia guarda quanta ricchezza possiamo fermarci e goderci la vita quanti anni da passare ed ogni giorno sarà festa canta balla e mangio bene per la vita che ti resta canta balla e mangio bene per la vita che ti resta ma il tempo passa e se ne va e prima o poi ti chiederà il conto della libertà ma il tempo passa e se ne va e questa notte ti chiederà la vita e la tua libertà la vita la vita e la la vita la vita la vita Grazie a tutti.